Come saprete nel mio piccolo canale sportivo si parla di sport motoristici, Formula 1 e Superbike in particolare, ma soprattutto di baseball, il mio sport preferito in assoluto e che pratico anche nella vita vera. Ovviamente nella maggior parte dei casi sono opinioni da tifoso e appassionato, però in questo caso è giusto informarsi e informare chi segue il mio canale sul tubo di che cosa è successo nello sport che preferisco in assoluto. La Major League Baseball è stata coinvolta in uno scandalo di segnali rubati e addirittura Sky Sport ha pubblicato un articolo sul sito online tramite Danilo Freri, uno dei giornalisti che all'epoca commentava il baseball fino a quando appunto Sky Sport ne aveva i diritti e che adesso ha fatto un bel riassunto di quello che è successo in questo scandalo che principalmente ha coinvolto gli Houston Astros campioni in carica nel 2017. Ai microfoni my tutorial dunque andiamo a vedere anche aiutandoci clamorosamente con questo articolo in italiano la vicenda dei segnali rubati. Partiamo dalla fine, Houston ha licenziato il general manager e l'allenatore AJ Yance per in realtà si è scritta una squalifica di un anno per una vicenda che adesso andiamo a spiegare. Prima però di andare nel merito facciamo una premessa soprattutto per chi non conosce il gioco del baseball ovvero che cos'è un segnale. Quando un lanciatore si appresta a fornire il lancio per affrontare il battitore viene ovviamente consigliato dal suo ricevitore, il catcher in termine inglese. In base al segnale che viene fatto si sceglie ovviamente in cooperazione tra lanciatore e ricevitore quale sarà il tipo di lancio, se palla veloce, palla effetto, curva o qualsiasi altro tipo di lancio, una slider per esempio, e la direzione del lancio quindi alta, bassa, interna, esterna. Tutta questa serie di segnali viene appunto espressa dal ricevitore con dei numeri che è una sorta di fatto di codice che viene stabilito prima con il lanciatore che sarà appunto partente in quella partita e anche ovviamente per tutti gli altri che si susseguiranno nel corso del match. Questa è che cos'è indicato come segnale. Altra ulteriore cosa importante da sottolineare ovviamente la Lega va a vietare espressamente che le squadre vadano a rubare letteralmente i segnali tra di loro in modo ovviamente da avere un vantaggio perché se il battitore riceve il segnale in anticipo e sa quale lancio arriverà è ovvio che il vantaggio che ne trae la squadra che ha rubato i segnali è abnorme ed è esattamente quello che è successo durante soprattutto le World Series del 2017 tra Houston e Los Angeles Dodgers. Che cosa hanno fatto quelli degli Houston Astros? Secondo appunto le indagini che sono emerse nel 2020 uno staff del Houston Astros di fatto si appostava sulle tribune dell'esterno centro che se uno ha presente come è il campo da baseball sono quelle di fatto che ti permettono di vedere in linea retta che cosa succede sul monte di lancio tra lanciatore e ricevitore e di fatto veniva ripresa la partita in corso di svolgimento. Una telecamera in particolare andava a zoomare sul ricevitore per far vedere appunto i segnali che vi ho fatto vedere prima quindi appunto quale lancio sarebbe arrivato in base al battitore che si sarebbe affrontato. In qualche modo veniva trasmesso questo anticipo di segnale nella stanza del replay che anche qui è un elemento tecnologico l'unico consentito in realtà nella Major League Baseball per di fatto appellarsi alla moviola. Nel baseball ci sono i challenge ovvero si va a contestare tramite l'instant replay una qualsiasi giocata per esempio se un giocatore è salvo o eliminato, se un giocatore ha effettuato un'eliminazione oppure no, insomma su situazioni oggettive se è fuoricampo o non è fuoricampo per esempio tramite il replay room si può fare appunto richiesta all'allenatore della moviola, l'allenatore va dall'arbitro e chiama appunto il challenge. Se il challenge viene vinto se lo si tiene, se viene perso non ci sono più moviole per il corso della partita. Dalla replay room comunque questa stanza di bit di fatto alla chiamata della moviola veniva stabilito e trasmesso tramite altri segnali criptici il tipo di lancio che sarebbe arrivato ai battitori degli Houston Astros questo era di fatto il sistema di trasmissione e il battitore avrebbe capito in anticipo che cosa si sarebbe arrivato e dunque creandosi un enorme vantaggio non solo per sé ma ovviamente anche per la squadra. Il problema di fondo, come ho già detto prima, qual è? è questo. La Major League Baseball impedisce qualsiasi supporto tecnologico sul terreno di gioco di conseguenza non si potrebbe fare quello che hanno fatto gli Houston Astros che si sono attrezzati in proprio per poter usufruire di questo enorme vantaggio. Ok che ci sarebbero le partite trasmesse in televisione ma ovviamente non ci si potrebbe sfruttare la tecnologia a vantaggio proprio. Gli Astros hanno bypassato anche questo sistema e creato questo sistema appunto spiegato all'inizio. Quindi qualcuno dello staff si metteva all'esterno centro riprendeva il ricevitore, in questo caso di Los Angeles Dodgers, trasmetteva i segnali alla panchina che a loro volta trasmetteva il segnale al battitore che avrebbe capito in anticipo quale sarebbe stato il lancio che gli sarebbe arrivato. Qui vediamo inquadrati Alex Cora e AJ Inch. AJ Inch che vi ho detto all'inizio è stato licenziato dagli Houston Astros e Alex Cora che all'epoca era bench coach degli Houston Astros. Alex Cora che tra l'altro anche lui sarà coinvolto in questo scandalo e tra poco vedremo perché. La cosa però importante da sapere è chi è che ha fatto la spia, chi è che ha parlato per fare emergere questo scandalo e ovviamente le indagini hanno portato alla segnalazione di questo lanciatore che è Mike Fiers, numero 50 degli Oakland Athletics attualmente ma all'epoca lanciatore degli Houston Astros. Questa segnalazione appunto è stata fatta da lui ha avuto lui il sospetto che Houston Astros avrebbero rubato i segnali dai Los Angeles Dodgers per poi andare a vincere il titolo nel 2017 e effettivamente ha fatto la segnalazione. Qui Danilo Freire riporta che addirittura Mike Fiers l'avrebbe riportato a Keith Rosenthal che è di fatto uno dei giornalisti più importanti e fondamentali del mondo del baseball quindi non propriamente pizza e fichi. È come se ci fosse un esempio di calcio scommesse nuovo nel mondo del calcio, una nuova calciopoli e di fatto un giocatore di una qualsiasi squadra di media classifica italiana andrebbe da Fabio Caressa che è uno degli giornalisti più importanti dal punto di vista della nomea su Sky Sport e spiffererebbe questa cosa. Quindi insomma effettivamente un gesto clamoroso e incredibile e altrettanta clamorosa è stata la squalifica e il provvedimento della dirigenza degli Houston Astros. Che cosa ha fatto? La dirigenza non solo ha licenziato il general manager Jeff Lanhau e l'allenatore AJ Inch ma ha dato addirittura una multa alla stessa squadra di 5 milioni di dollari. In realtà è stata la MLB che ha dato una multa di 5 milioni di dollari agli Houston Astros che è la pena massima possibile in questa situazione. Ovviamente anche il draft futuro degli Houston Astros andrà a ripercuoterne perché ovviamente sono state esclusi gli Astros da queste scelte del draft. E a questo punto Houston Dalla, una squadra molto forte che ha fatto il suo percorso, si ritrova senza general manager e senza allenatore. Veramente un colpo incredibile, quindi vedremo come ne uscirà Houston. Secondo me da appassionato ne uscirà abbastanza male, potrebbe subire già nel 2020 un contraccolpo soprattutto psicologico, però a volte in questi contraccolpi psicologici anche il rendimento sul campo potrebbe influirne. Quindi attenzione che magari l'American League West potrebbe essere un pochino più equilibrata del previsto. Vedremo poi nel corso della off-season che cosa succederà. Parlavamo prima però di Alex Cora che è l'uomo a fianco a AJ Inch che è stato coinvolto anche lui e anzi addirittura un'altra squadra è stata coinvolta oltre a lui, ovvero i Boston Red Sox. E voi mi direte che cosa c'entrano i Boston Red Sox? C'entrano tantissimo perché, per chi non lo sapesse, Boston è stata campione nel 2018, l'anno successivo alla vittoria di Houston. Il manager dei Boston Red Sox che vi hanno vinto il titolo nel 2018 è stato proprio Alex Cora che di conseguenza per essere stato coinvolto dal scandalo dei segnali è stato licenziato perché appunto è stato bench coach degli Astros, quindi assistente allenatore di fatto di AJ Inch, anche lui squalificato. Non solo, la MLB sta inviando un'ulteriore inchiesta in corso sulle World Series del 2018 che hanno vinto i Boston Red Sox sempre a discapito dei poveri Los Angeles Dodgers in questo caso per 4-1. Ovviamente Boston per tutelarsi non ha pensato a far prigionieri e ha fatto fuori Alex Cora senza se e senza mai in modo da tutelarsi da questa inchiesta che attualmente non è confermata. Anche se le voci dicono, anche questo lo riporta Danilo Freri che se l'inchiesta si concluderà Alex Cora sarebbe stato comunque squalificato. Di conseguenza Boston si è tutelata e ha detto Alex grazie, passi lunghi e ben distesi, possiamo anche lasciarti a casa. Altra cosa importante da dire è che i titoli che sono stati assegnati nel 2017 e nel 2018 sono rimasti assegnati a Houston e a Boston. Ovviamente c'è stata una grande protesta a monte degli Los Angeles Dodgers che è stata coinvolta in entrambe le finali su questa cosa ma la MLB non si è pronunciata ovviamente anche perché non si riesce a capire se effettivamente ci sono state responsabilità di più giocatori all'interno di questo scandalo. Era soltanto una cosa architettata dallo staff. Già la squadra di Houston è stata penalizzata oltremodo, giustamente direi assolutamente non ci sono santi che tengano. Il titolo però al momento è assegnato a Houston per quanto riguarda il 17 e a Boston per quanto riguarda il 18. Anche la MLB sta appunto indagando su Alex Cora perché ipotizzano che appunto se è stato coinvolto nel 2017 potrebbe essere stato tranquillamente coinvolto nel 2018 per cui due squadre sono state coinvolte clamorosamente. C'è però una terza squadra che è stata coinvolta in questo scandalo in maniera molto indiretta per la verità rispetto alle altre due quindi Houston e Boston e sono ovviamente i New York Mets. Qui riportiamo un articolo di ESPN dove di fatto viene annunciato il licenziamento del neo manager Carlos Beltran, ex giocatore dell'MLB, vent'anni di onorata carriera e ha chiuso la carriera proprio nel 2017 con Boston, scusatemi con Houston. Carlos Beltran è stato l'unico giocatore coinvolto nello scandalo, segnali rubati tra Houston e appunto anche Boston in via indiretta ed è stato appunto licenziato nella giornata di giovedì dai New York Mets. Qui si viene riportato che appunto i New York Mets e Carlos Beltran hanno di fatto rescisso consensualmente il contratto anche in questo caso per tutelare i Mets da un eventuale scandalo e sanzioni ancora più pesanti come sono successe con Boston. La cosa incredibile è che Carlos Beltran è stato nominato manager dei New York Mets a dicembre del 2019 alla prima esperienza di fatto da capo allenatore di una squadra MLB e ovviamente questa è una cosa scioccante perché penso che sia il record incredibile di esonero. Non penso ci sia stato un manager nella storia della Major League Baseball che sia stato eliminato e licenziato prima di aver iniziato la stagione senza aver dato neanche una partita. E anche i Mets di fatto si ritrovano a reinventarsi un allenatore perché la squadra l'avevano già costruita e la stanno già costruendo per provare a tornare al playoff ma il GM Brody Van Vaneghen ha dovuto ovviamente prendere provvedimenti per questo scandalo che ha coinvolto Carlos Beltran. Carlos Beltran che non era né un allenatore né un assistente allenatore era un giocatore all'epoca degli Houston Astros e ha vinto il titolo nel 2017 peraltro. Qui appunto viene riportato che Beltran è il terzo allenatore da essere stato licenziato in seguito a queste investigazioni e lo stesso Beltran in queste dichiarazioni molto forti peraltro ha di fatto ammesso una responsabilità perché appunto in vent'anni di onorata carriera sono stato sempre riconosciuto come un leader facendo in modo che le cose andassero per la direzione giusta e in questa situazione ho fallito. Come giocatore veterano della squadra avrei dovuto riconoscere la severità dell'azione e impedire incredibilmente con fermezza che queste azioni venissero prese. Beltran poi si professa uomo di integrità morale e sarà pronto comunque a scagionarsi e a dimostrarsi in determinate indagini. Fatto sta che anche i New York Mets si separano come appunto viene riportato da ESPN da Carlos Beltran terzo persona fatta fuori da questo scandalo. In realtà anche lui era stato direttamente coinvolto in quanto giocatore sempre immagino prevede la testimonianza di Mike Fiers. Fatto sta che questo scandalo incredibile ha coinvolto veramente tante componenti e vedremo che ripercussioni potranno avere per quanto riguarda la stagione 2020 che verrà. Veramente grazie a Danilo Freire siamo riusciti ad avere spunto e a creare un video che è difficile da fare in realtà. Spero che possiate usufruirne e goderne. Aspetto anche voi le vostre opinioni in merito per quanto riguarda gli appassionati che seguiranno questo video ovviamente appassionati di baseball sul canale. Secondo me Houston potrà avere un controllo psicologico nella stagione 2020 e secondo me anche indirettamente anche le due squadre. In mezzo sono stati coinvolti in realtà per terze parti e quindi trovando un nuovo manager e facendo un buon sprint training forse potrebbero anche uscirne meglio. Boston secondo me potrebbe anche lei avere una discreta stagione. Questo scandalo comunque di fatto la coinvolge e le compromette un po' la stagione perché già Boston avviene da una stagione fallimentare nello scorso anno e c'era la crescita ulteriore in questo sempre con Alex Corr. Ora che Alex Corr è stato licenziato chi lo sa. Dunque fatemi sapere voi appassionati di baseball cosa ne pensate di questo scandalo e delle mie opinioni riguardo le stagioni che verranno di Houston, Boston e New York. Il saluto da parte di Metitorg e ci vediamo ovviamente a un prossimo video.